Resta caldo il tema dello sviluppo della montagna aquilana con la risposta della regione ai rilievi mossi dal consigliere aquilano di centrodestra Liris. Sappiamo che il futuro del Gran Sasso tra tutela ambientale e sviluppo turistico sostenibile è un tema strategico e delicato e la regione su questo tema è intervenuta ponendo fine ad una grave inadempienza consumata negli anni passati. Lo sostengono gli assessori regionali Donato Di Matteo e Dino Pepe rispondendo a quanto affermato nei giorni scorsi dal consigliere Guido Liris capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale dell'Aquila. Il colpevole ritardo accumulato dalle precedenti amministrazioni regionali aggiungono i due assessori ha esposto la regione Abruzzo ad una procedura di infrazione comunitaria che si trascina da nove anni e che potrebbe costar caro all'Abruzzo. La delibera di giunta di cui si parla è un obbligo a cui la regione Abruzzo era tenuta da quasi un decennio perché il decreto legislativo 152 del 2006 imponeva tutte le regioni di convertire i siti di interesse comunitario in zone speciali di conservazione per una omologazione a livello europeo. Proprio questo dato testimonia che di fatto sì che zone speciali di conservazione sono in pratica la stessa cosa, sono aree con l'identica perimetrazione e sottoposte alle stesse norme. Nulla cambia nella sostanza e non c'è dunque alcuna catastrofe che incombe. Al contrario hanno spiegato i due assessori regionali Pepe e Di Matteo l'unico modo per porre fine alle norme di salvaguardia finora vigenti che in maniera indiscriminata hanno applicato ovunque nel parco i vincoli più estremi è quello che la regione ha finalmente avviato, approvare il piano del parco che riconosce i progetti speciali territoriali e consentire così di diversificare i vincoli promuovendo uno sviluppo sostenibile. In questo senso concludono Di Matteo e Pepe la regione a seguito della delibera 877 attiverà tavoli concertativi con le forze rappresentative dei territori interessati per condividere un percorso comune che porti ad una legge regionale che preveda modifiche nell'ambito dei vincoli europei. Infine la regione affiderà al parco che ha già attivato una collaborazione con l'università dell'Aquila un'azione nell'ambito del PAF Priority Action Framework per realizzare uno studio di verifica e revisione dei siti di interesse comunitario e delle zone speciali di conservazione in quanto aree pregiate per le specie endemiche di cui tutelare l'habitat.